Sì, buonasera dunque, siamo in diretta alle 22.01, prendiamo un attimo la linea, proprio un minuto qui dalla redazione di Pianeta Oggi TV di Venezia, Radio Favaro Veneto Web del circuito Radio Science, per una notizia che è arrivata proprio in queste ore, la sto verificando, intanto vi diamo un attimo un flash, una breaking news, dunque c'è stata una scossa forte in Toscana, dunque leggo dal gonews.it, terremoto nell'Empolese e nel comprensorio del Cuoio, epicentro a Castelfiorentino. L'epicentro del terremoto, abbiamo detto a Castelfiorentino, scossa, la vediamo di fare una sintesi su quanto è scritto qui, scossa di terremoto percepita nell'Empolese e Valdelsa e nel comprensorio del Cuoio, per qualche secondo la terra ha tremato, non solo la zona fiorentina, anche nel comprensorio del Cuoio è stato avvertito il terremoto, non si segnalano al momento danni a cose o persone. Dunque dicevamo l'epicentro è a Castelfiorentino, vicino via Luccardese, le due scosse sono di magnitudo 3.9 e 2.2, rispettivamente percepite alle 18.53 e alle 18.51. La scossa più violenta ha avuto a profondità di 8,6 km ed è durata 44 secondi, l'altra 10,5 km ed è durata invece 19 secondi. La scossa è stata avvertita in buona parte dell'area fiorentina come pure nel comprensorio del Cuoio. La scossa è stata avvertita da Santa Croce sull'Arno a Pontassieve, passando per Monte Spertoli e San Mignato e Firenze. Le linee telefoniche sono rimaste ingolfate per qualche minuto a causa delle chiamate di rassicurazione della popolazione. Dunque, altro da dire, i vigili del fuoco di Firenze e di Pisa stanno ricevendo molte telefonate per avere informazioni sulla scossa sismica. Sono comunque tutte richieste di informazioni e non si segnalano danni né a persone né a cose. Questo lo sottolineiamo per tranquillizzare un po' tutti. Alcune segnalazioni parlano di soprammobili e altri oggetti che sono caduti a terra per le vibrazioni del mobilio negli appartamenti. La scossa, e con ultima informazione che vi posso dare, sempre qui, vi cito la fonte dal gonews.it, la scossa sarebbe stata avvertita anche a Livorno, dove una quindicina di persone avrebbe chiamato il comando provinciale dei vigili del fuoco, ma non ci sarebbe nessun intervento. Quindi al momento non ci sono particolari preoccupazioni. Dunque, anche qui nell'articolo riporta la data di oggi. Vediamo se c'è qualche altra cosa da potervi... No. Alle 22.04 direi di chiudere qui questa breve finestra sull'informazione. Da Massimo Brunelle è tutto. Da Venezia restituisco la linea per la regia centrale che poi darà a chi è di turno per la trasmissione. A voi e buonasera, grazie. Grazie Massimo, buonasera. Allora Fredo, iniziamo in questo momento la trasmissione Don Chisciotte e i mulini a vento. Sono le 22.05 in questo momento. Vi ricordo che questa trasmissione va in diretta su tutte le radio del network, quindi Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgarete in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana, Modena Noi Radio di Modena anch'essa. In più siamo sul web tv, sul canale YouTube e sul sito radioscience.it. Con questo è tutto, Alfredo ti ripasso subito la linea. Ok, ti ringrazio Rosario, ringrazio il caro Massimo delle puntuali notizie che ci dà tutti i giorni. Abbiamo un ospite molto interessante questa sera, Silvia Parma. Parlare della Silvia Parma è un po' difficile perché è un artista a carattere vulcanico che non tralascia nessun aspetto dell'arte e si impegna a fondo in ogni cosa che fa. Cara Silvia, qua ti passo la parola per un breve saluto. Allora, ciao a tutti, buonasera a tutti, grazie di essere qua in nostra compagnia. Che dire? Che dire, Alfredo? Che cosa devo dire? È un'emozione essere qua in streaming, anche se so che non mi si vede, io mi ero truccata, mi ero fatta bella per questo primo appuntamento in streaming. vi ho mandato una foto, una foto di scena, quindi spero che vi basti. Che dire, ho sentito del terremoto prima, sono stata molto contenta di sentire che non ci sono stati danni a persone e cose. Purtroppo l'Italia è un paese sismico, ce ne dobbiamo sempre rendere più conto e fare fronte a questa cosa, far finta che i terremoti siano solo episodi casuali, non serve a niente, anzi, provoca più danni, provoca sempre più danni. Quindi in bocca al lupo alle popolazioni della Toscana, che fortunatamente se la sono cavate solo fare con un po' di paura. E che dire? Dai, parti con le domande, aiutami. Parliamo con le domande, il primo argomento, dividiamo secondo le tue esperienze, la serata in argomenti, in tipologie di argomenti più che altro. Partiamo dalla poesia, perché noi ci siamo conosciuti tanti, tanti, tanti anni fa. Esatto, nel 2005, penso, nel 2004. Sì, noi abbiamo iniziato nel 2001, penso nel 2004, esatto. Esatto. Quando insieme ad altri poeti, ma più che altro amici, costituì qua a Bologna un'associazione poeti ad alta voce, che portò, secondo la tipologia di gare fondata da Mark Smith in America e portata qua da Lello Voce in Italia, abbiamo portato a Bologna, provincia, le gare di poesia. Un sistema molto semplice. Poetry Slam, chiamiamoli Poetry Slam, così la gente sa di che cosa parliamo. Gare di poesia orale. Esatto, esatto. Perché non è il concorso di poesia, il Poetry Slam non è il concorso in cui il poeta invia la propria poesia a una giuria, lo legge e lo giudica. No, assolutamente. Il Poetry Slam, posso spiegarlo, io lo vuoi spiegare tu? No, 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 spiega tu. Allora, Poetry Slam è una gara di poesia orale. Cosa significa? Significa che il poeta recita il proprio testo e possibilmente lo performizza. Il Poetry Slam, come è chiamato comunemente, ha delle regole ben precise perché si elegge una giuria popolare che è formata da cinque elementi scelti tra il pubblico, dotati di lavagnetta che devono votare da 1 a 10 il concorrente. Il concorrente non può usare altro che la propria voce, la propria espressione vocale e corporea per esprimere al meglio il proprio testo, non può quindi avvalersi di sottofondi musicali, di attori, di costumi, eccetera. E la cosa molto bella del Poetry Slam è che è veramente riportato la poesia al popolo. Perché quello che io penso è che l'arte, qualsiasi forma d'arte, abbia innanzitutto il compito di regalare la bellezza, ma la bellezza nel più profondo senso del termine. Quando io vedo un quadro tipo Ghermica di Pablo Picasso che racconta una delle tragedie più profonde che sono successe negli ultimi anni, questo bombardamento di questa città assolutamente inerme, cosa succede? Succede che io assorbo la crudeltà attraverso la bellezza, quindi la posso guardare in faccia e questo poter guardare in faccia anche le brutture del mondo mi rende in grado anche di approfondire il mio senso critico, il mio poter dire alla mia, farmi una mia opinione. Il grande potere dell'arte, oltre che regalare la bellezza con la B maiuscola, è quella di rendere coscienti il popolo. E secondo me il fatto, ritornando al Poetry Slam, i ragazzi, perché il Poetry Slam fortunatamente si sta diffondendo sempre di più tra i giovani e chi frequenta i locali, perché ricordiamo che il Poetry Slam lo erano fatti nei pub, nei teatri, ovunque si voglia fare poesia, vediamo sempre di più un pubblico estremamente teologeno anche dal punto di vista dell'età, è trasversale. E si parla un sacco di problemi oggettivi, i ragazzi non parlano solo del loro sé, degli loro amori, delle loro disperazioni eccetera, ma parlano anche della loro critica che fanno verso la vita, verso il mondo e anche delle loro speranze, di come poter un giorno migliorare tutto questo. Quindi direi che il grande potere del Poetry Slam è quello proprio di riportare la poesia al popolo, perché ricordiamo che i grandi poeti, parliamo di Bukowski, Wimborska, Merini, Neruda, parlavano al popolo con il linguaggio del popolo e parlavano al popolo proprio per risvegliarne le cosciente, non per una sorta di catarsi personale, ma proprio per risvegliarne le coscienze. Che dire, io faccio parte della lega italiana Poetry Slam, sono nel coordinamento Emilia Romagna e sto facendo delle cose molto belle con loro, anche perché quest'anno per esempio è uscito, abbiamo fatto una gara per la giornata mondiale della poesia dentro al carcere dei fratello, con i ragazzi del fratello, coinvolgendo la maggior parte dei ragazzi che non solo non erano italiani, ma andavano alfabetizzati perché non sapevano la lingua, molti erano quasi analfabeti e vi assicuro che il giorno della gara era presente anche il dottor Pino Spadaro che è il presidente del carcere del Tribunale dei Munori dell'Emilia Romagna, che ringrazio perché è stato lui ad appoggiarci e ringrazio anche Nadia Monti che è nel comitato UNESCO Giovani che ci ha dato il patrocinio e vi assicuro che è stata una giornata emozionante perché per sentire questi ragazzi parlare di madre, di Dio e di Amore è stato veramente impressionante. Abbiamo fatto tra l'altro vincitore, Kamala ha partecipato anche alla finale regionale del campionato nazionale Lega Italiana Poetry Slam e la cosa importante è che uscirà un libro, sto curando l'uscita di un libro con le poesie di questi ragazzi sia con i manoscritti che con le traduzioni perché soprattutto mi sembra giusto che questi ragazzi che sanno tenere tanto bene in mano un coltello e poco altro perché veramente sono nati con quello in mano, quindi quello conoscono, possono vedere che con le loro mani possono creare anche qualcos'altro. E poi ci sarà un altro progetto che si chiamerà le parole che non senti perché vorremmo fare una gara con i disabili e anche con i sorgonenti. Questa è una cosa molto bella, hai spiegato in maniera eccellente cos'è il Poetry Slam e la sua capacità di risvegliare le coscienze. Qua noi ci troviamo, è vero Rosario, ci troviamo perfettamente in linea perché questa radio, questa televisione come la voluta Rosario serve proprio nel suo DNA, nel suo statuto quello di risvegliare le coscienze con parole, con immagini, con tutto quello che serve perché indubbiamente abbiamo coscienze addormentate. Fra le altre cose a lunedì sera, ieri sera c'è stata, abbiamo anche un filosofo che ogni due settimane ci spiega l'iter sociale, filosofico e sociale che partendo dall'antichità arriva fino ad oggi sul problema e sulle necessità di risvegliare le coscienze. Poetry Slam a cui molto dobbiamo a Franz Campi che è stato anche noi nella nostra trasmissione perché diciamo è stato per la nostra associazione un mentore eccezionale. Ha creduto fin dall'inizio Franz? Ha creduto fin dall'inizio in quella prima uscita che fu nel teatro di Piazza Grande a Bologna e anzi ti devo dire l'ho sentito prima dell'inizio della trasmissione e ti saluta caramente. Anch'io, ciao Franz. È sempre impegnato, impegnatissimo, adesso tra le altre cose essendo come tu sai direttore artistico qua del Carrefour fa sempre cose molto belle, molto interessanti. Franz è un altro di quei sognatori che vive i suoi sogni e non i sogni basta, quindi è un grande. Ah, è indispensabile, indispensabile quando si ha una visione portarla fino in fondo. Hai voglia. Continuando sempre nell'ambito della poesia, vediamo dal tuo ricchissimo curriculum che ho davanti agli occhi parli di Monio Vada, del concerto di Monio Vada, vivere il giorno. Ho scritto una poesia che ho recitata prima di un concerto di Monio Vada, quello sì. Poi una cosa molto bella che ho fatto insieme agli amici di Radio Città Fujiko, per cinque anni l'edizione di musici e poeti, che è stato un contest, è stata la prima, era il primo contest innanzitutto tra poeti e cantautori. Ci hanno aspettato prima il Blue Inn, poi ci ha aspettato il Circolo Mattini, siamo andati in tv con musici e poeti, lo sottolineo perché sono stata invitata dalla network di Sette Gold a trasmettere una gara di poesia ed è stata la prima gara di poesia, perché di poesia se ne è sempre parlato, ma pochi hanno portato la gara di poesia. Il mio musici e poeti è stato il primo contest poetico ad andare in tv, quindi di questo sono estremamente orgogliosa anche perché abbiamo avuto padrini eccezionali, c'è stata Iskra Menarini, c'è stato Luciano Mangalini, adesso non mi guardano, c'è stato Toni Pagluca delle Orme, c'è stato Fricantoni, quindi Alberto Bertoni, abbiamo avuto Silvia Torrealta, abbiamo avuto Michela Turra, cioè sono passati veramente, esatto, sono passati da un entourage di altissimo livello, mi ricordo quando Toni Pagluca venne a fare l'ospite della finalissima della seconda edizione, c'era il Blue Inn che era pieno di gente, c'era gente seduta per terra e lui ha fatto questa improvvisazione al pianoforte, perché il Blue Inn ha un bellissimo pianoforte a coda di gioco di bimba e ti assicuro che c'era un'atmosfera dentro al Blue Inn che era commovente, emozionante, anche perché c'era molta gente che era della nostra età che era cresciuta con le Orme, quindi quel gioco di bimba che era allora un pezzo molto rivoluzionario concepualmente e stilisticamente, ha riportato ricordi ma soprattutto è stato veramente molto molto bello, abbiamo avuto dei momenti molto belli, 80 concorrenti da tutta l'Italia, quindi diciamo che è stata, esiste ancora, c'è la pagina ed è ancora diva la pagina perché non è detto che non la riprenda, su Facebook e conta 11.300 iscritti, la pagina di Facebook di Musice Politi, quindi direi che il lavoro che abbiamo fatto… è un grande successo, volevo ritornare indietro di un passo quando tu hai parlato dell'esperienza che avete fatto al Pratello con il carcere minorile, hai parlato che dovrebbe essere pubblicato un libro, io ti invito già da adesso per una serata dedicata esclusivamente a questa uscita dove possiamo anche leggere brani di questi poeti, di questi ragazzi minori… Ti puoi definirli poeti perché hai scritto delle cose Alfredo che quando le leggi ti viene la pelle d'oca… Ah immagino, 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 io ho sempre creduto molto nella poesia dei giovani e nell'associazione e nelle nostre serate ci sono spesso stati giovani, facciamo anche una gara tra le scuole le scuole, mi ricordo… Vero, ma ancora adesso la LIPS è attiva, è nelle scuole, fanno le gare dentro gli licei e dentro le scuole medie, quindi non è… L'italice è trasversale, insomma, questo… come ci credi tu, ci credono… No, 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 indubbiamente, io purtroppo dopo l'ho lasciato per motivi di lavoro, solo adesso ho ripreso a scrivere un po', dunque io direi che se non hai altra idea, possiamo passare a un'altra pagina della tua ricca esperienza di tutti questi anni e della tua biografia estremamente interessante e parliamo invece di una cosa che io, oltre alla poesia, ti ammiro molto e che è la musica, sei una cantante veramente eccezionale e ricordo sempre i tuoi interventi musicali nelle nostre varie performance e vedi se è diventata, leggo qua, una cantante professionista… Diciamo che lo faccio a un buon livello, ho scritto anche cantoni… questo indubbiamente, sia come cantante, sia anche come autrice e cantautrice… Sì… Piatta Verdi… Piatta Verdi… Esatto, su Bruno Lausi… Sì, sì… Parlacene un po', Silvia… Allora, beh, io sono nata come cantante quasi per scherzo perché la mia prima insegnante di canto mi buttò a forza in un'orchestra di liscio, quella è la gavetta che fanno molti di noi. Quando passi la vita dell'orchestra di liscio vuol dire che dopo sei entrato a deprontare qualsiasi… Io sono un propugnatore di questa musica e parleremo più tardi. Impari il mestiere, diciamo che lì impari il mestiere, impari a stare col pubblico, impari a tenere botta un sacco di ore di palco, eccetera, eccetera. Niente, poi che cosa? Ho iniziato a fare le cose che piacciono a me, nel senso che ho iniziato a fare spettacoli teatral-musicali, quello mio che è stato è stato Le donne di Faber, che erano tutte le canzoni femminile di Fabrizio e De Andrè, però riarrangiate, era un linguaggio molto jazzistico perché l'arrangiatore che collaborava con me aveva una predilezione per i jazz, ma lo spettacolo era veramente molto vivo, anche perché c'era l'intervento di un'attrice che è Mara Vapori, che è bravissima, che recitava alcuni testi, anche perché sappiamo che i testi di Andrè vivono benissimo anche senza la musica. Ho fatto anche uno spettacolo sullo swing italiano, poi adesso sto portando avanti uno spettacolo sempre di parole, musica e poesia, questo ti piacerà, venilo a vedere, che si chiama Bologna di ieri e di oggi, lo dico anche in dialetto, che parla della storia di Bologna tra musica e poesia, perché tu come sai benissimo Alfredo, da Mozart e Pascoli e Carducci arrivare a Roberto Roversi e dalla tutta la vita di Bologna può essere raccontata in poesia e musica. Lo stiamo portando avanti assieme a Ettore Pancaldi, che è questo grandissimo attore dialettale e non solo, che ha lavorato anche con Ulmi e con Avati e con noi c'è William Manera che è un istrionico cantautore di bolognese importato, ma è bravo, William è eccezionale e la cosa bella è che sul palco noi andiamo a braccio, abbiamo il nostro canovaccio, poi sappiamo dove dobbiamo andare a parare, però le battute ce le inventiamo al momento, improvvisiamo l'ultima azione. Abbiamo anche in cantiere un altro, sempre noi tre, un altro progetto che però questo è di Ettore, che si chiama Un baule pieno di sogni e parla della storia del varietà, anche il canto e si recita. E poi che dire, ho scritto delle canzoni, a me piace scrivere per bambini, ho scritto delle canzoni per bambini che sono diventate sigla di un programma radiofonico che si chiama Oggi racconto io, gli arrangiatori sono stati Teo Ciavarella, Luca Testoni degli Schianto, Svido Foddis, The Modena City Rembrandt, Teo ha lavorato anche un sacco, Teo Ciavarella ha lavorato un sacco con Lucio Dalla, insomma poi ho scritto una canzone di musica da ballo per una mia amica che me l'ha, era Viviana, ciao Viviana Colutti, che si chiama D'Antalune, la potete trovare anche sul web, che è stata arrangiata da Pier Martinetti che ha lavorato tantissimo anche con Casa Dei, poi hanno scritto per me una canzone che si chiama Non mi rimpiangere, che potete andare a vedere sul web, me l'ha scritta William Benedetti che ha collaborato un sacco con varie edizioni di Sanremo e quella è un inedito che mi piace molto portare in giro, poi continuo a studiarmi le mie cover che mi piace sempre tanto. Benissimo, benissimo, come vedi Rosario ogni ricciolo è un'idea proprio, perché ne ha tanti di riccioli. Hai proprio ragione Alfredo, peccato che non la possiamo vedere, per il problema tecnico non riusciamo a vederli in video, mi dispiace tantissimo. Mi dispiace, mi dispiace. Mi ero truccata ragazzi, mi ero fatto un make-up tutto carino, mi ero messa la lacca e il rossetto, la carina carina stasera ci dentro. Ma lo sei sempre stato. Faremo una puntata tutta da sola Silvia, una puntata tutta te sola, ti manderò solo in onda, da sola. Va bene, io ci sto, faccio radio. Ma se vuoi fare un programma qua? Io ho lavorato con Radio Città Fugico e siamo tuttora molto amici, sto lavorando con Radio Salutino, quindi sono abituata a spicherare, insomma, mi sono fatta anche delle sale dirette, da parte un mixer senza sapere che cosa era un mixer radiofonico, quindi... No, no... ...senso sapere cosa fare, ma è venuto lo stesso fuori qualcosa. Basta darti un microfono in mano, non c'è proprio nessun problema. Noi a volte ci troviamo con delle persone che... persone importanti, anche culturalmente, che purtroppo non hanno un approccio, diciamo, microfonico molto felice. Invece con te si va proprio sul sicuro, non c'è nessun problema, veramente. Ma la pallandina non mi manca. No, 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 come a me non manca la chiacchera. No, no, è divertente così, no? È divertente, da almeno. Forse è stato tutto quel gran periodo sul palco a chiacchierare, a parlare, a leggere, a convincere come te che la poesia è una propugnatrice di libertà. Purtroppo che adesso ce ne sarebbe molto bisogno e quindi si fa obnubilare perché il potere è sempre stato abile a obnubilare le cosciente non a soltanto obnubilare e quindi è grandissimo volevo che tu ricordassi un attimo perché è un cantante che mi è sempre piaciuto molto e che tu hai avuto anche se non ero dei rapporti di lavoro Bruno Lauti ho fatto anche uno spettacolo su di lui quando morì Bruno dico che eravamo amici perché ci siamo conosciuti per caso una serata, io lo intervistavo per un'altra radio per cui ho lavorato al Moretto che è un locale dove si faceva jazz ed eravamo in pochissimi perché il Moretto aveva sbagliato a pubblicare le date eravamo io, Franz io che intervistavo Lauti Franz che lo presentava e 7-8 persone Lauti che aveva già il Parkinson stesse sul palco due ore e per due ore ci ha tenuto si può dire radio per le palle lo diciamo ci ha tenuto letteralmente per le palle e lui aveva le capacità di grandi venendo anche dal cabaret lui aveva una una presa di scena che era spaventosa spaventosa e quando è morto Bruno è successa una bellissima cosa perché Bruno era molto conosciuto qua a Bologna e io chiesi al Blue Inn che è di proprietà di Serra Donetti della cantina Bentivoglio che adesso è diventata un pochette crescentine però allora ero qui era un posto in cui si faceva giarte e si mangiava ti ricordo un tuo compleanno lì dentro esatto vabbè non ricordo parliamo di cose serie allora non parliamo dai che ho fatto gli ultimi due compleanni l'ho diviso in due perché ho fatto ho dovuto dividere perché gli anni sono tanti l'ho diviso in due ho bevo fatto bene fatto bene comunque torniamo lì pensa io dovrei dividere in tre o quattro invece ah sì dai ti diverti più gli anni passano più bisogna divertirsi esatto e niente facendo questa serata al Blue Inn in commemorazione di Lausi è dedicato all'associazione italiana Parkinson perché i prudenti vennero dati all'associazione Parkinson e ci fu una generosità incredibile mi ricordo che Zerazanetti ci diede il locale gratuitamente e fece accordare il pianoforte gratuitamente ma gli ospiti che arrivarono arrivò Raniero Gaspari e cantare almeno tu nell'universo non tutti sanno che almeno tu nell'universo le parole sono di Lausi la musica di Maurizio Fabrizio davanti all'arrangiatore di Lausi è stata una cosa accompagnata da contrabbasso e pianoforte è stata una cosa veramente terribile non volevo farlo ma poi c'erano c'era Fricantoni c'era Alberto Bertoni c'era Zappe Ida c'erano i gemelli Ruggeri c'era Luciano Manzalini c'era Guido Fodis c'era il mondo sono stati dentro penso tre ore e abbiamo concluso con la non so se ti ricordi con l'asta delle vignette di Zab è stato anche da noi Zappe e Ida abbiamo passato una serata piacevolissima ed è stata una serata importante perché tutta Bologna tutta Bologna era lì per Bruno perché Lausi è stato uno scrittore un interprete importantissimo perché lui è stato anche interprete di altre canzoni c'è l'Aneddoto che l'Aquila questa canzone bellissima di Lucio Battisti Lucio Battisti non ha mai voluto cantare perché diceva che la cantava meglio lui quindi o era amore caro o amore bello non mi ricordo tra le due c'è una canzone di Battisti che lui non vuole cantare perché dice che la canta meglio Lausi e insomma è stata una serata veramente veramente tosta come si suol dire ed è stata tutta bella perché amici per un amico quindi è stato proprio veramente molto bello e Lausi era anche un grande poeta però ha scritto delle musici ovviamente chi scrive parole così come scriveva lui era indubbiamente era un poeta io direi che sulla musica abbiamo detto quasi tutto poi beh poi c'è il rapporto con Mingardi e addirittura con il dottor Dixie Jet Band No allora Mingardi Mingardi ci dobbiamo ricollegare a un'altra cosa però che è un progetto perché con Mingardi stranamente non collaboro per la musica ma collaboro per questo contesto di comici che si chiama Ridana Bolania traduzione per i nomi non bolognesi Ridiamo a Bologna che cura da 5 anni e che in 5 anni ha assunto una connotazione nazionale anche perché si è aperta una collaborazione con il Festival Cabaret Emergente di Modena che ha 22 anni di esperienza che è gestito da Riccardo Benini che appunto è il manager di Andrea Mingardi e col Festival e col Cabaret Amore Mio di Grotta Mare che ha 31 anni di attività alle spalle che ha lanciato personaggi come Luciano Littizetto Mbac Giussi eccetera e quest'anno si è aperta anche la collaborazione col Talent appunto il Festival delle Arte di Andrea Mingardi che è gestito dalla moglie da Bebanaldi e devo dire che sono veramente in gamba sono persone di un'unestà intellettuale artistica incredibile è stato un piacere incredibile lavorare con loro io mi sono occupata appunto della sezione Cabaret e volevo anche farmi un po' di pubblicità perché domenica 30 inizia Ridana Bulagna 6 siamo al Lab End di San Lazzaro di Sabana a partire dall'ora 21 ci saranno i comici in gara e sarà tutto il pubblico a vetare ci sarà una giuria popolare ma anche tutto il pubblico voterà con una scheda apposita il proprio Beniamino si faranno tre serate di eliminatoria il 30 ottobre il 6 novembre e il 13 novembre sempre all'ora 21 sempre alla band che è un club interessantissimo perché è un club giovane visitato da qualsiasi tipo di da chi ama il blues a chi ama il rock a chi ama il jet quest'anno stiamo provando a inserire anche la comicità e per attirare un po' e la finalissima sarà il 27 novembre se tutto va bene come ospite ci sarà proprio Andrea Mingardi oh meraviglioso meraviglioso adesso sono un po' triste perché vogliamo mettere un brano musicale mi sarebbe tanto piaciuto sentire una tua canzone un'interpretazione ma come ti ho spiegato quando ci siamo sentiti essendo noi poverelli non riusciamo a pagare la SIAE quindi utilizziamo non ti preoccupare non ti faccio guadagnare stasera va bene guarda non è un problema se facessi questo per guadagnare avrei già dato con colarte vediamo noi che in dieci anni di attività poetica forse non abbiamo neanche preso i soldi per una pista ma vabbè ma intanto ce le paghiamo noi e poi è bello stare in compagnia no? e fare delle cose belle certo certo quindi noi mandiamo solo musica creative commons o sono riuscito a dirlo stasera Rosario vai certo se vuoi mandare una qualche cosina di bello e simpatico che duri su quei tre minuti tre minuti e mezzo si manderò almeno almeno manderò un brano di Nicolas Falcon che si intitola No Backbone se l'ho pronunciato bene perché sai che il mio inglese è tutto napoletanizzato il mio inglese spordiano è sempre impeccabile no è napoletanizzato il mio inglese va bene va buono va buono va buono è l'accento che ci piace l'accento vai col brano è l'accento che ci piace 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 è l'accento che ci segue è l'accento che ci piace è l'accento che ci piace deploy di avalaccio, non ho paura, perché l'inferno lo conosco già, solo che quello che conosco è più subdolo, si cela dietro false lezioni, falsi appalti, falsi governi, false banche, false industrie, falsi posti di lavoro, l'inferno esplode ogni giorno quando i giusti vengono uccisi, silenziati, neutralizzati, con menzoni e milacce e bombe, per poi tornare a celarsi, travestirsi, camuffarsi, da vita normale, che di normale non ha niente, ci andrò all'inferno, perché ho deciso di non tacere, mai, nessun giorno, la giustizia è una cascata a goccia, piccola e sussurrante, costante, non serve l'urlo di rabbia di una volta sola, serve parlare, serve non tacere con figli, amici, vicini di casa, serve per non temere, non tremare, non abbassare gli occhi davanti al tuo simile, che si crede più potente, più cattivo, più forte di te, è la solitudine che ci fa deboli, è lasciarci soli che ci divide, e allora, quando scenderò nell'inferno dei coraggiosi, lo guarderò in faccia, questo diavolo che mi brucia in petto e che mi ha portato fin qui, mi inchinerò come un giullare alla sua forza che è la mia, e rideremo a crepapelle e balleremo intorno al nuovo cuoco. complimenti, complimenti veramente, ma Silvia sei partita da quella filastrocco originale e poi ti sei ispirata alla realtà italiana? sì, perché poi alla fine, se tu educhi un bambino all'omertà, cioè se insegna un bambino a non denunciare chi fa un sopruso, ma soprattutto anche qua a Bologna è successo, in un sindacato che c'è stato un dipendente che ha denunciato i propri colleghi che timbravano il cartellino e andavano a farsi i fatti loro, chi è stato trasferito? i delinquenti che si facevano i fatti loro? o il personaggio che li ha denunciati? il personaggio che li ha denunciati, quindi la mafia è ovunque l'omertà è la prima regola della mafia se io mi devo sentire tacciato a dito dai colleghi perché ne ho denunciato uno che mi ha fatto un danno perché ricordiamo che il non lavorare non fa danno solo a me non fa danno solo agli altri, fa danno a me per primo perché se la società grolla, crollo io insieme a loro la legge del furbetto è una legge che mina la società dalle fondamenta perché questi furbetti che credono di fare i furbi appunto rubando, ladrando, non lavorando, percependo stipendi che non si meritano minano la società dalle fondamenta e prima o poi sotto le macerie ci cadono anche loro ma si credono furbetti, è questa la tragedia solo che ce ne insegnano fin da piccoli con queste filastroche del cavolo, scusate vanno insegnate l'omertà, la sottomissione e la schiavitù vanno insegnate fin da piccoli è una roba incredibile l'abbiamo dentro cambiamo ancora pagina questa volta parliamo di teatro parlaci un po' delle tue esperienze teatrali o comunque di scena io prendo delle grandi gridate da Ettore che è il mio collega di scena perché io è un attore con la maiuscola io invece faccio delle cose strane io sono quella che prima di entrare in scena già vestita in costume vado a salutare il pubblico non si fa, non si fa invece io devo toccare con mano il pubblico perché secondo me in teatro si danno delle emozioni fortissime è una cosa incredibile anche perché tu reciti bene non quando reciti la parte quando sei il personale nel mio spettacolo teatrale io sono molto sensibile a un tema ma non solo perché è morta una mia amica ma perché è una cosa bestiale che è il tema del femminicidio quando tre anni fa sono state ammazzate due donne qua a Bologna una era Silvia Caramatta l'altra era Marinella Odorici Marinella era una medicina di negozio ed è stato detto di tutto sulla Marinella che era morta per un gioco sessuale andato male non è vero lei stava aiutando questo personaggio che era lo zio di una sua amica che era agli arresti domiciliari lui si è infatuato di lei lei gli portava da mangiare a casa gli portava il cane a spasso ma non era innamorata quando lui ha saputo che lei stava aprendo una storia d'amore con un altro ragazzo con un ragazzo lui ha provato a fare sesso con lei lei non ha voluto l'ha strozzata e scusate la cattivaria ma ci sta avuto il buon gusto di ammazzarsi anche lui Marinella è stata uccisa come tante donne e io quando sento certe persone che dicono ma certe donne se lo meritano perché quando divorziano aspetta quando è bestiale sta cosa quando divorziano quando divorziano o spellano i loro uomini non c'è una donna vittima di un femminicidio che sia stata ammazzata da un marito per ragioni economiche non è possibile stalking FMIO ha subito stalking quindi so che cosa vuol dire ok sono argomenti molto pesanti perché nello stalking le prime a lasciare sole le donne ho parlato anche con delle psicologiche sono le donne spesse c'è pochissima io sono stata aiutata da uomini ok io l'altro giorno ho postato scusate se parlo di queste cose ma ho postato no 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 parlane pure ho postato un commento sulla questione di quella ragazza che si è uccisa perché il suo ex fidanzato aveva postato un video porno che lei aveva girato in privato e tutto il web si è scatenato su di lei allora numero uno il video era privato era un gioco tra di loro numero due uomini e donne fanno sesso quando sono fidanzato quindi perché infamare una donna che fa sesso spero che molte cioè spero che tutte noi abbiamo una sessualità tranquilla che possiamo esercitare con il nostro uomo facendo quello che più ci piace più fa star bene il nostro uomo esatto certa cosa il video è andato sul web perché questo incapace questo impotente mentale psicologico non ha trovato niente di meglio che umiliare una donna che semplicemente ha detto non voglio più stare con te ed è legittimo che io non voglia più stare con un uomo anzi è più che onesto ti do la possibilità di trovare un'altra donna con cui stare meglio e da a me la possibilità di trovare un uomo con cui stare meglio questo impotente psicologico ok cosa ha fatto l'ha umiliata e la cosa che a me scandalizza è che il web si è scatenato contro di lei cosa c'è di male che una donna faccia sesso facciamo cioè sesso è una pratica che pratichiamo tutti spero no o che abbiamo praticato insomma perché infamare lei perché infamare lei c'è un macismo c'è una c'è un sessismo in Italia che è spaventoso c'è una cosa che mi ha fatto piacere Alfredo che ha avuto un sacco di mi piace mi ha fatto piacere ma mi ha fatto anche pensare ho avuto un sacco di mi piace hai ragione sono d'accordo con te l'infame lui eccetera ma mi piace sono stati soprattutto maschili e questo da una parte mi fa piacere perché vuol dire che non tutti gli uomini siano sono certo uguali ok uomini che ragionano ce ne sono in abbondanza no perché ci si scaglia sempre sul maschio non è vero uomini che ne ragionano ce ne sono in abbondanza ma mi è preoccupato il fatto che le donne non si siano espresse hanno paura ok hanno paura come il fatto che non denunciano col fatto che si autopuniscono di una colpa che non hanno ma Alfredo allora io parlavo con la psicologa quando ho vissuto l'esperienza di stalking non mi piace dire ho subito quando ho vissuto l'esperienza di stalking le cose più bestiali me le sono sentite dire dalle donne cosa hai fatto per scatenarlo così con una persona che viveva a casa mia cioè se lui non stava bene con me andava via ok certo certo in realtà ma questa psicologa mi diceva guarda che le donne si lasciano sole in queste cose è una situazione veramente particolare brutta a parte scusate se ho toccato l'argomento ma no no ma qui noi tocciamo tutti gli argomenti è ancora molto di tabù e va secondo me ne va bisogna avere il coraggio di parlarne cioè non mi vergogno di dire che ho vissuto questa esperienza perché ne sono uscita a testa alta però è stata un'esperienza che mi ha insegnato tanto anche dal punto di vista sociale e umano a parte che impari a riconoscere i veri amici ma veramente dal punto di vista sociale e umano ti apre tantissimo gli occhi è vero cambiamo argomento va bene ma diciamo che sul teatro non c'è molto da dire comunque importante per noi di Bologna il teatro canzone Bullagna di una volta e di un cu e questa serie ridiamo a Bologna che certamente è un un fatto importante io poi che amo tanto la bolognesità mi piace città volevo dirti quando tu parlavi prima di questa realtà purtroppo allucinante aveva ragione certamente Umberto Eco a dire che il web è pieno di cretini ma il web è un grande strumento è un pericolosissimo strumento ma come tutti gli strumenti l'energia nucleare è una grande cosa ha sempre una faccia doppia non c'è niente da fare ricordi io posso dire la mia il web è uno strumento è l'uomo che lo usa allora io ho un sacco di amici faccio un sacco di cose conosco un sacco di persone io ho due ho due profili uno con 3000 amici e uno con 5000 più musici e poeti che ne ha 11.300 la maggior parte dei post che mi arrivano sono bellissimi post d'arte post di poesia post di denuncia perché io le persone che mi postano la cretinata la violenza l'insulto il commento raffista semplicemente li cancello il bello di facebook che nella realtà non puoi fare è che tu puoi bannare una persona certo puoi impedirle di insultarti di importunarti di utilizzare la tua pagina per postare dei deliri personali anche dei deliri di violenza personali tu lo banni dipende da come noi lo usiamo secondo me ci vuole una grande educazione all'uso dello strumento ci insegnano a guidare la macchina ci insegnano ad andare a scuola guida bene insegniamo l'utilizzo del web secondo me è quello e poi mi sembra strano che certi video non possano essere io adesso ho letto sporadicamente tornando all'episodio di questa ragazza che si è uccisa perché perché si è sentita insultata sul web youtube non può rimuovere un video ma stiamo scherzando va là che lo rimuove lo fa lo fa quando gli pare a lui lo fa eh esatto però quando non gli pare a me una volta è capitato un video non mi ricordo non italiano in cui c'era riprendevano un uomo che stava malmenando la propria donna no tu quello non solo lo rimuovi ma vai a risalire a chi l'ha postato e lo denunci beh come i ragazzi e i bulli che che riprendono le loro violenze e poi le vanno a postare ma stiamo scherzando cioè non è non è non è cioè tu vedrai che si inizi a bannare questi video questi personaggi che non possono essere chiamati esseri umani perché neanche animali perché gli animali non arrivano a queste cose perché vedrai che la smettono perché queste ansie di protagonismo protagonismo fino a se stesso allora tu li banni vedrai che gli passa la voglia di postare queste bestialità a danno dei propri simili cioè che per me è la cosa più bestiale comunque parliamo di cose più piacevoli sono già le 22.53 vedete come passa il tempo e io vorrei chiudere questa tua partecipazione alla nostra trasmissione parlando di una cosa che a noi è molto cara cioè la radio anche se la facciamo con un mezzo nuovo però non è detto che chissà un giorno riusciamo ad approdare su altri lidi il nostro tecnico ci sta studiando e quando lui studia ci arriva sempre parliamo un po' della radio innanzitutto perché è un mezzo che noi amiamo enormemente mi ricordo la tua attività che facevi su Ciao Radio all'inizio e io ho fatto Ciao Radio poi Radio Città Fujiko anzi li saluti ragazzi è uno staff è uno staff fantastico mi hanno insegnato tanto Radio Città Fujiko è un sistema di radio libero veramente come diceva Finardi amo la radio perché libera la mente e Radio Città Fujiko vi assomiglia molto perché loro usano l'imprattenimento per trasmettere cultura perché ricordiamo che la cultura non è noiosa la cultura è bellissima no 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 la cultura è stimolante ce la insegnano come una cosa avulsa da noi come una cosa pesante io per esempio ho scoperto la poesia dopo il liceo al liceo ma fammi leggere una poesia se sei capace quando invece approdi alla cultura per una tua curiosità scopri che la cultura è una potenza è l'arma migliore che ha l'uomo la cultura batte l'ignoranza batte i pregiudizi abbatte le rivalità abbatte le guerre per quello che ci voglio non puoi tenere un po' ignorantini per questo l'ignoranza è la capacità cioè mantenere ignorante le capacità del potere per sottometterti questo è indispensabile io che faccio musica magari ti trovi a volte con dei musicisti che non sono italiani ma basta avere una chitarra in mano ci si intende hai capito esatto anzi la musica e gli strumenti musicali che noi non conosciamo perché noi conosciamo i nostri ma i linguaggi musicali gli strumenti musicali degli altri popoli il suonare insieme è una cosa che non si sa fare ma si prova come dei bambini delle elementari ma non lo so fare fammi provare allora si ride perché si sbaglia però dallo sbaglio si impara tutti insieme beh la cultura è una grande forza anche perché la cultura è in ognuno di noi ritornando ai ragazzi del fratello gente che appena impara ragazzi che hanno appena imparato l'italiano ti assicuro che che quando hanno hanno mollato le redini hanno scritto veramente quello che avevano dentro chi se ne frega se non sanno gli italiani e chi se ne frega se alcune frasi sono un po' sgrammaticate la potenza del messaggio è talmente forte che ti arriva e arriva ancora più bella perché è sgrammaticata perché non è la perfezione della forma è l'intensità esatto il sentimento espresso che è diverso esatto esatto perfettamente cioè ricordiamo gli annacci che era dimmi tu no no dimmi pure no 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 dicevo ricordiamo gli annacci che non era non era intonatissimo no penso gli annacci però quando cantava ti faceva ti faceva venire la pelle d'ota esatto quindi cos'era Vincenzina che esce dalla fabbrica eh che bella non ricordo bene il titolo ma è estruggente e non è cantata certo da un Michael Bolton con una voce perfetta però come la fa lui non la fa nessuno esatto eh quando trovi tempo tu lavori anche tu lavori con tua sorella ma noi abbiamo siamo titolari tata 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 pubblicità della sanitaria levante bottega sanitaria ortopedia iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna quest'anno fondata da mio papà che quest'anno ha compiuto i 60 i 90 anni e la sanitaria ha compiuto i 60 complimenti ma non ti parlo non ti voglio parlare di questo per farti far pubblicità ma eh riallacciare alla trasmissione che ho sentito domenica scorsa ti è piaciuta? sì molto eh su una radio che io amo è l'unica radio che io ascolto quando sono in macchina eh radio san lucchino eh che amo tantissimo perché è il genere di musica che mi piace sono in 4 sono in 5 fan per cento sono una cosa ciao Bruno ciao Mauro ciao Mandrillo ciao Giovanna ciao ciao a tutti esattamente esattamente e fai una trasmissione questa volta non diciamo di intrattenimento ma di informazione che indubbiamente è importantissima specialmente nell'ambito della salute eh ti metto insieme a mio figlio che spesso viene qua a parlarci di odontoiatria e allora l'intervisto cavolo ah sì lui non ha problemi eh eh non è come come sono io dalla parola facile quella c'è la mia figlia eh ma eh spiega molto bene le problematiche lui è un esperto eh dell'utilizzo dei laser eh nell'audontoiatria eh quindi è molto importante molto seguite queste trasmissioni che parlano di salute anche se siamo pieni di trasmissioni eh in televisione che ci assillano in continuazione tu parli delle dei prodotti e delle eh diciamo oddio come la parola sussidi sanitari oggi per esempio mentre la prima puntata è stata dedicata alle calze elastiche no alle calze elastiche con la seconda è stata dedicata alla fusturologia quindi alla schiena a come utilizzare e oggi abbiamo registrato la puntata che andrà in onda non andrà in onda domenica abbiamo parlato di alimentazione perché quello che voglio fare eh nella mia trasmissione è intanto dare informazioni semplici eh togliere tutte le terminologie tecniche anche perché e far capire a tutti quanti non solo che la salute è una responsabilità che ci riguarda in primo piano ma perché mantenerci in salute non è solo una responsabilità verso noi stessi ma anche una responsabilità verso i nostri cari andarsi a cercare una patologia perché si mangia male perché si fuma troppo perché eh perché ci si trascura poi ricade anche sui nostri cari una persona un conto se ti capita qualcosa ok cadi fai un incidente ti viene una ma un conto andarcela a cercare ricordiamo oggi per esempio parlavamo di alimentazione nel mondo occidentale ci si uccide per troppo cibo è vero che è un paradosso mi diceva oggi il nostro ospite che che è un esperto in alimentazione che in America stanno arrivando a un bambino obeso su due ok allora per esempio parlando di alimentazione l'alimentazione mangiare correttamente che non vuol dire mettersi a dieta e non mangiare ma semplicemente eliminare tutti quegli alimenti che sono tossici e riconoscere dalle etichette che cos'è tossico per noi e sapere cosa non mangiare se abbiamo già una patologia in atto dalla gastrite all'ipertensione all'ulcera al riflusso eccetera eccetera al diabete eccetera eccetera perché il nostro fisico veramente siamo quello che mangiamo e il nostro fisico è di una potenza assoluta voi sapete che per distruggere un fisico umano ci vogliono delle bombe ok però il nostro fisico anche se noi viviamo va in tilt e ci crea delle patologie cioè addirittura oggi parlavamo che molti tumori si potrebbero evitare evitando certi alimenti sì perché il fisico registra e va in tilt perché gli dà troppe informazioni sbagliate a cui lui deve che lui deve compensare manda in tilt il sistema e il sistema sballa ok quindi è quello che io voglio far capire che la salute prima di tutto non dipende da una pillola ho la gastrite prendo la pillola sono stitico prendo la pillola no la pillola è un palliativo che spesse volte fa più bene che male perché è un agente chimico che entra dentro di noi e noi non siamo chimici siamo biologici che è un'altra cosa esatto e quindi io cerco di con questo programma appunto si chiama l'arte di stare bene e cerco di parlare di questo e fortunatamente trovo degli interlocutori estremamente preparati perché sono tutti professionisti del mestiere che con cui abbiamo la stessa intenzione ragioniamo uguale e che parlano semplicemente ampiamente e danno suggerimenti molto importanti proprio su questo nostro aspetto della nostra vita prendere responsabilità della nostra salute interessantissimo interessantissimo Silvia è molto importante questo bisogna sempre tenerlo presente ok sono le 23.02 ti abbiamo lasciato in parcheggio caro Rosario ma a me è stato bellissimo perché ho seguito con vivo interesse anche perché Silvia è sprintosa è più bello quando parla lì va avanti e poi tutti argomenti interessanti non è che se avete non si è detto fuffa si è parlato di cose molto interessanti si è spaziato un po' non dico tutto lo scibile umano ma quasi no no che cavolo non vi fate parlare di cucina non vi fate parlare di cucina perché sono una cuoca terribile e non vi fate parlare di totalica ma io sono non preoccupate ti invitiamo a pranzo noi non preoccupate grazie certamente potremmo dire se non so dalle 2 alle 3 di notte hai un attimo di tempo e vuoi fare una trasmissione sul nostro network come diciamo a tutti le porte sono aperte guarda facciamo una cosa finisco con Ridana e Bulania che comunque dura novembre ok e poi possiamo parlare molto volentieri o in diretta o registrato siamo pronti a qualunque cosa veramente ma io avevo un progetto sullo spoken word che nei ragazzi della Lips ci sono molti che fanno spoken word che è questa nuova forma che è tra la poesia orale è poco prima del rap e poco dopo la poesia orale c'è un gruppo che ha fatto anche un libro ha creato un libro potremmo fare uno spazio dedicato allo spoken word se vi piace in diretta intanto loro sono tutti quando si parla di poesia noi siamo sempre o personalmente aperti si è molto soleticato come tu ho detto questo libro dei ragazzi del pratello che attenderò con piacere in modo da poter fare una trasmissione dedicata a loro ecco questo è molto importante e potremo anche tranquillamente invitare i responsabili del pratello dei carceri anche per parlare di cultura all'interno delle strutture carcerarie ok dopo ci mettiamo d'accordo ecco la cosa che volevo dire su questo libro che ha una chicca voi sapete che dentro ai carceri minorili essendo appunto parlando di minori non si possono scattare fotografie certo invece noi ci siamo riusciti perché abbiamo scattato tutte foto di particolari quindi una mano un cappellino un orecchino un tatuaggio un ragazzo che recita di spalle eccetera però abbiamo una documentazione bellissima di foto tra l'altro scattate adesso ahimè io con i nomi sono una frana ma anche lei è una fotografa professionista che fa parte sempre del comitato nazionale giovani dell'UNESCO assieme a Nadia Monti e ha fatto delle foto bellissime e il libro sarà corredato appunto anche delle foto della gara e questo è una cosa poi abbiamo avuto l'apprezzazione del reddottor Giuseppe Spadaro Pino Spadaro che appunto come vi dicevo prima è il presidente del tribunale dei minori che ha creduto è una persona eccezionale crede fortemente nella riabilitazione e nella potenzialità che hanno questi ragazzi pensate che ha organizzato una cena tra una ragazza presente lui è invitata a pranzo lui tra una ragazza che faceva come si dice bullismo a un'altra ragazza che lo subiva e le ha messe a tavola insieme e lui era lì e le ha fatte parlare cioè è una persona di un'apertura mentale adesso adesso anche le ragazze sono cadute nella trappola del bullismo anche ultimamente queste notizie saltano fuori va bene Silvia certamente non abbiamo finito qua tutte le attività come tu hai detto manca anche la cucina no quindi noi rimaniamo in attesa di altri tuoi progetti e di altre tue idee che qua puoi realizzare con estrema tranquillità perché il network si sta allargando siamo arrivati a nove emittenti e anzi se tu conosci qualcuno o qualcuna che voglia realizzare una radio un radio video eccetera noi io no Rosario è a disposizione con tutto il know-how tutta la tecnologia necessaria per fare cose di questo genere ascolta posso parlare di un'ultima non di un'ultima cosa certo certo è il primo libro che ho pubblicato perché è disponibile anche in vendita online scaricabile dal web insomma in formato online si chiama io è da quando lavoro con Radio Città Pugico che tutti gli anni organizzo assieme alla radio e in accordo con l'associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 un evento commemorativo l'anno scorso è nato un libro che si chiama Giochi che gridano dedicato alle vittime di tutte le stragi ed è una raccolta poetico-fotografica che è dedicata proprio alle vittime di tutte le stragi proprio perché la strage comunque che sia una strage di Stato che sia una strage di genere che sia una strage perpetrata per con motivi tra virgolette religiosi perché non c'è religione che abbia questo nome che voglia una strage non è quello hanno il comune denominatore di dividere di terrorizzare di silenziare le masse di sottometterle ci sono poesie ha scritto ha scritto Davide Ferrari ha scritto Luciano Marzolini ha scritto la Clara Baito hanno scritto ha scritto la Michela Turra hanno scritto tantissimi hanno scritto anche poeti stranieri molti 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 ragazzi musulmani ci sono foto veramente molto belle dedicate alle stragi di ogni tipo e devo ringraziare appunto Rosanna Pironti che è la mia editrice oltre che amica con cui stiamo curando anche il libro dedicato alla poesia del carcere di Norine che ha realizzato assieme a me questo libro e devo essere molto soddisfatta perché anche qui abbiamo avuto l'ospitalità del comune di Bologna che ci ha ospitato nella sala a Farnese e quel sabato c'erano 120 persone quindi è stata è stata un'esperienza importante c'era Luca Taddia insomma c'era 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 veramente tantissima gente abbiamo c'è stato il gruppo del teatro Corea che ha performizzato quella Alfredo se la vedevi ti veniva la pelle d'ota danzare su una poesia recitata è stata una cosa incredibile quindi insomma diciamo che non è vero che ci vogliono grandi mezzi per fare delle cose belle significative ci vuole una grande voglia certo questo è vero è fondamentale c'è gente che ha grandi mezzi e tu lo sai meglio di me perché tu sei uno che con niente realizza tanto quindi e ci vuole mi ricordo con molto piacere quella serata che facciamo al centro costa sulla strage di Bologna si ricordi tanti anni fa certo va bene noi siamo qua in attesa ok va bene quando tu hai un'idea qualcosa da proporre al nostro super regista noi saremo molto molto contenti di averti fra di noi noi siamo una piccola famiglia che si appoggia tutta sulle spalle di Rosario quanto sei grosso Rosario abbastanza abbastanza te tocca te tocca si mi tocca si molto 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 in gamba che ha dalla sua professione ha saputo togliere e creare questo questo network noi io Rosario ci conosciamo da 30 anni quindi lo conosco molto bene ok un abbraccio caro grazie a tutti un abbraccio a voi un bacio a voi grazie Rosario è stato un grande piacere conoscerti grazie dell'ospitalità grazie a Alfredo Stori che mi ha chiamato e mi ha fatto parlare a ruota libera dicendo domani rimani un attimo dopo la fine della trasmissione devo dire una cosa a te Rosario per la chiusura grazie Alfredo grazie Silvia della tua presenza con la trasmissione scusa quest'altra settimana ci sarà un ospite che tu conosci bene Silvia il grande Pino De Marc ma no filosofo accordatore poetico sociologo ci parlerà sperando che non ci dia buca Pino non darci la buca ricordagli un'ora prima perché se no non si ricorda Pino Pino è un grande è un grande parlerà di questo suo nuovo interesse fonte di studio sui roma e sull'apprentura degli zingari quindi è una questione molto interessante ok ok a te Rosario bene stavo dicendo a Silvia grazie della sua venuta in trasmissione perché mi ha fatto piacere a me conoscerla così per il momento e mi dispiace tantissimo che per problemi tecnici non è potuto andare il suo video ma ci rifaremo Silvia ci rifaremo anzi volevo dire due cose perché caro Alfredo non ha letto un po' la chat che sono state alcune persone che hanno scritto riguardo alla poesia che hai detto prima che era bellissima Anon 6491 insomma poi si è espresso sempre su Youtube che rimuove i video senza insomma le volte senza consensi e c'è un altro ascoltatore che Anon su Anonimi Silvia cioè quando non mettono un nome esce Anon per noi con un numero vicino Anon 7611 che dice grazie a tutti bellissima puntata quindi insomma grazie a te Silvia perché in effetti l'hai fatta per l'80% tutta tu la puntata benissimo e allora io direi subito insomma andiamo con la sigla ricordando che domani sera mercoledì 26 ottobre alle 18.30 andremo in diretta con Spazio Aperto e alle ore 22 con Osservatori Antimafia sempre trasmissione condotta da Antonella Intrenoia e Ugo Lombardi della redazione di Bari e in compagnia sempre dell'amico Massimo Bonella editorialista di Pianeta Oggi TV da Favaro Veneto con questo è tutto un caro saluto a tutti un abbraccio come dico sempre a tutto il condominio di Radio Science vai con la sigla bye where'd you be if you had given to protection shit shit a tutti a tutti a tutti a tutti a tutti Grazie a tutti